Questo master è aggiornamento, conoscenza, approfondimento delle materie di internazionalizzazione. La motivazione che mi ha spinto a intraprendere il master è stata l'esigenza di aggiornarmi e approfondire alcuni argomenti relativi all'internazionalizzazione, soprattutto finanza e le strategie di internazionalizzazione. Molto valida, è ad altissimo livello, è molto concentrata, quindi è una sfida nel senso che è molto impegnativo. Però è un'esperienza che sicuramente consiglio e ritengo che sia molto formativa. L'ho raggiunto di questa esperienza è sicuramente l'approfondimento delle materie che riguardano l'internazionalizzazione d'impresa, soprattutto in un momento come questo, nel quale le sfide globali e dei mercati diventano sempre più difficili e sempre più comprendenti nozioni che l'imprenditore, ma anche i consulenti, debbano avere nel proprio bagaglio per poterle espletare ed affrontare. Consiglierei questo master prima di tutto perché è un corso assolutamente innovativo che raccoglie e comprende tutte le materie che sono indispensabili oggi nel bagaglio di chi fa business all'estero. Ho scelto il focus sull'Asia in quanto vorrei approfondire altri paesi, Giappone, Malesia e Corea, perché sono paesi che interessano la mia sfera lavorativa. Giappone, Malesia e Corea Grazie a tutti!